Va bene, allora riprendiamo la settimana attaccando gli esercizi che avevamo visto la volta scorsa, almeno su cui abbiamo cominciato a ragionare per cercare di completarlo, più che altro cogliendo gli spunti dei vari punti che ci vengono richiesti quindi dal punto di vista implementativo non è particolarmente complesso però come dicevamo è un po' un pretesto, uno spunto per ragionare su dov'è che si ingrandisce così, per ragionare un pochino su le modalità di progettazione del software oggetti essenzialmente, programmi oggetti quindi eravamo fermi sul punto 1, cerchiamo di andare a un certo ritmo sono cose che dovreste in buona parte già conoscere, magari proviamo a rivederle insieme per inquadrarle magari serve anche di ripasso, se avete domande, curiosità o altro ci fermiamo e lo discutiamo allora il punto 1 ci dice inserire nel libretto un elenco di 20 oggetti vuoto a piacere prima di andare avanti però, leggiamo la nota 2 per il momento la classe libretto viene richiamata da un semplice main di prova dovrà però essere progettata in modo da poter essere richiamata anche nel contesto di interfaccia grafica qui noi stiamo già pensando già in modalità model view controller in qualche modo questo qua gestisce un'applicazione che è quella di gestione di un libretto, semplicissima però la classe libretto gestisce i dati e poi ci sarà qualcuno che ne richiama le funzionalità in questa prima fase di sviluppo richiamare funzionalità sarà un semplice programma di prova ma poi lo integreremo in un'interfaccia grafica quindi teniamo presente questo quando decideremo come implementare le varie funzioni soprattutto per quanto riguarda l'input e l'output dei dati ok, allora partendo dall'inizio, il primo punto era, l'avevamo già cominciato a discutere la volta scorsa il punto 1 di questo esercizio chiede permetti a questa classe libretto di poter aggiungere i nuovi voti e allora abbiamo visto che ci serve un metodo di tipo add che prende come parametro un oggetto voto l'oggetto voto è che a questo punto dovrà essere creato dal chiamante abbiamo deciso per massimizzare il disaccoppiamento tra gli oggetti abbiamo pensato che non fosse utile alla classe libretto se non dove necessariamente indispensabile conoscere qual è la struttura interna di un voto quindi per aggiungere un voto al libretto non ho bisogno di sapere come è fatto il libretto come è fatto il voto e quindi prendo semplicemente un oggetto voto e lo aggiungo alla mia lista di voti che ho costruito quindi questo metodo è semplicemente in una riga che è voti.add di voti, che è il parametro di questa funzione quindi noi abbiamo una lista di voti che alla creazione del libretto non contiene nulla e poi via via che viene chiamato il metodo add conterrà sempre i voti successivi in ordine di inserimento in questo caso quindi non sono ordinati né per voto né per data ma semplicemente per ordine di inserimento poi una buona abitudine che dobbiamo sempre avere è quando scriviamo qualche cosa sempre commentarlo ovviamente in modo da poi ricordarci cosa abbiamo fatto quindi aggiungo un nuovo voto al libretto ha semplicemente un parametro che è il voto da aggiungere così ora e nel futuro ogni volta che si andrà col mouse su questo metodo add ci sarà salterà fuori la documentazione e quindi sarà più facile ricordarci tra i vari metodi che definiamo quali che cosa fanno ciascuno perché ho chiamato add questo metodo? questo è add è un metodo della classe libretto che a sua volta chiama un metodo che si chiama add della lista che è contenuta che è gestita dal libretto questo pattern di lavoro si chiama delega delegation quindi fatto questo metodo add non fa altro che delegare alla lista sottostante l'operazione di aggiunta quindi quando io ho un metodo che non fa altro che delegare per chiarezza non è male chiamare il metodo sovrastante con lo stesso nome del metodo sottostante del metodo delegato io non voglio esporre al chiamante di libretto l'oggetto voti questa lista qua è privata e privata deve rimanere quindi non voglio lasciare che qualcun altro aggiunga un oggetto alla mia lista senza il mio controllo perché io questo metodo add potrei volerlo controllare se tu stai aggiungendo il 27esimo voto non va bene perché magari nella tua carriera devono essere di meno oppure più avanti dovremo impedire l'aggiunta di voti duplicati quindi io non voglio che dall'esterno facciano ciò che vogliono sulla mia lista voti voglio controllarlo io ma poi in ultima analisi al di là dei controlli che faccio alla fine devo aggiungere delegare alla lista l'operazione di aggiunta vera e propria quindi questa operazione qua di di avere più livelli a cui possiamo vedere lo stesso elenco di oggetti la vedremo spesso delegation diciamo quelli termine tecnico che descrive questo pattern e dopo di che cosa me ne faccio di questo metodo? devo testarlo, devo richiamarlo da qualche parte se no da solo non si chiama da solo allora diceva il testo ci suggeriva di fare un main di prova un semplice main di prova semplice perché non usiamo qua non andiamo a creare i castelli tipo JUnit che siano dei framework di testing automatico e dove lo faccio questo main di prova? allora io preferisco non farlo dentro la classe libretto ma fare una classe a parte e poi vi dico perché allora fatemelo prima creare quindi dal progetto io mi creo una classe che chiamo test libretto la quale abbia il metodo main non la classe libretto stessa ecco da questa classe test libretto richiamerò i miei metodi della classe libretto per poter vedere se funziona perché ho scelto di farlo in una classe separata cioè qui ho un metodo main in cui alla fine di fatto cosa farò? creerò un nuovo libretto lo chiamiamo libro uguale new libretto e poi a questo libretto proverò proverò a chiamare un po' di volte il metodo add di oggetti voto che dovrò creare quindi avrò un new voto e poi devo scrivere il costruttore e così via quindi creo un oggetto e ci faccio cose che cosa mi impedirebbe di mettere questo intero main tale e quale dentro la classe libretto qua sotto in fondo nulla non c'è nulla che me lo impedisce quindi avere una classe che abbia un proprio metodo main che serve per testare a se stessa però il fatto di farlo da fuori mi permette di essere sicuro che in questa classe di test io neanche per sbaglio vado a usare dei dati privati perché se io il main lo scrivo qua dentro la classe libretto la variabile voti la vedo poi è un casino perché da un metodo statico non riesci a prendere i valori di una variabile di distanza perché il main è un metodo statico in ultima analisi per cui si crea un po' più problemi che non soluzioni però c'è sempre il rischio che rischi di poter chiamare un metodo privato rischi di poter vedere una variabile privata eccetera e quindi il test che fai non è realistico di come gli altri possono usare la tua classe quindi è più pulito separare la classe di test dalla classe diciamo così di business quella che fa il lavoro vero tenendoli separate così mi accorgo meglio di quali sono le funzionalità che la classe espone mi accorgo di le funzionalità che la classe che mancano la classe ce ne accorremo tra un secondo e quindi no lavoro con l'interfaccia vera e propria è un test più corretto primo motivo secondo motivo ebbene questo è un programma di prova ma io di programmi di prova ne potrei avere 280 a seconda di che cosa sto provando quindi non posso cablare tutto in un unico main della classe stessa posso avere 27 programmi di test diversi uno magari che testa le funzionalità di base uno che testa magari la velocità di esecuzione uno che fa che non so operazioni tipo aggiungi, cancella, aggiungi, cancella tantissime volte per vedere se funziona se ci sono dei bacchi e quindi li posso tenere separati non necessariamente bloccarne uno solo qua dentro ma quindi chiamo sempre di pensare così dopo di che quando tutto funziona questi programmi di test li archivio da parte e nella mia libreria io lascerò solamente la classe vera e propria quindi non mi devo portare dietro tutto un bagaglio non lo devo cancellare ovviamente ma non mi devo portare dietro tutto un bagaglio ok allora assodato che ci piace di più tenere il test separato dalla classe qui devo creare un nuovo oggetto tipo voto il costruttore di voto richiede 3 parametri il voto stesso il corso e una data allora il voto diciamo che noi abbiamo preso 30 di analisi 1 perché dovendolo inventare tanto vale inventarlo bello analisi 1 e poi il terzo parametro è una data adesso come vi dicevo non so ancora non vi ho ancora raccontato come funziona la libreria java.time però credetemi che per creare un nuovo oggetto data partendo da una data fissa c'è questo metodo molto semplice local date of in cui gli passo anno, mese e giorno non devo fare parsing di string e cose strane gli passo l'anno, mese e giorno e lui mi crea la data diciamo che adesso fate il terzo anno nel 2019 noi dovete passare nel 2017 al gennaio probabilmente erano il 15 non lo so quindi abbiamo creato un oggetto vuoto e l'abbiamo aggiunto al libretto e questa operazione qui nel testo prova ad aggiungere 10 oggetti e io ne aggiungo un po' con dei voti a caso non so 25 aggiungo diciamo un 28 aggiungiamo un 18 20 un altro 25 perché poi il 25 ci serve un 24 mettiamo un altro 25 quanti ne ho? 3 6 9 ne manca 1 dai su seleziona la riga incolla 27 e poi mettiamo anche questo qua c'è poi analisi 2 poi ci sarà fisica 1 metto tutti quelli simpatici eh fisica 2 cosa possiamo? c'è anche geometria sto pescando nelle vostre memorie ehm poi cosa c'è secondo me ho una idea ehm vabbè diciamo programmazione oggetti credo che avete passato a tutti non lo metto su 20 programmazione oggetti lo metto qua sotto dai poi qui possiamo avere non so inventiamo eh che ne so economia mettiamo ricerca operativa mettiamo complementi di economia invento eh non so se esistono davvero questi corsi qui ma è tanto per completare qualche cosa ehm e poi logistica so che non ce l'avete voi è un peccato ma ok mettiamo le date un po' diverse perché questi qua sono questo è il secondo anno quindi l'abbiamo passata nel 2018 questo è il primo anno ma nel secondo semestre quindi diciamo che era sto inventando ovviamente dei dati ehm fisica 2 anche questo è il secondo anno boh secondo semestre primo semestre diciamo che l'abbiamo fatta a settembre perché perché di solito è così ehm questa qui siamo a settembre del 2017 questo 2018 gennaio 28 gennaio inventiamo un po' di cose questa facciamo anche a giugno e diciamo facciamo finta che questi qua siano del 2019 questo è il febbraio primo febbraio questa è al 25 gennaio vabbè dai abbiamo messo dentro un po' di esami con dei valori più o meno casuali voi potreste mettere quelli veri e poi vediamo se funziona il tutto quindi faccio run e boh eccezioni non ne ha date però non so minimamente che cosa abbia fatto nel senso che facendo run non ci sono errori di compilazione non ci sono eccezioni in runtime li eseguo e come faccio a vedere il risultato per vedere il risultato dovrei essere in grado come minimo di non so visualizzare stampare qualche cosa il problema è che da questo programma esterno non riesco a stampare un bel niente perché la classe libretto non ha nessun metodo che mi permetta di estrarre i dati che ho inserito non ancora diciamo allora potrei aggiungere un metodo print qua sotto potrei aggiungere la chiamata a questo metodo eccetera però c'è anche un altro modo per capire se un programma sta funzionando senza necessariamente far sì che il programma stampi tonnellate di testo sulla console e poi cercare di leggere e capire se sta stampando le cose giuste è il debug quella piccola icona che tutti si dimenticano che è questo scarafaggetto quassù che ci permette di entrare in modalità di debug sul nostro programma allora ad esempio posso mettere un breakpoint devo mettere su un'istruzione quindi lo metto ad esempio qua su 19 basta fare doppio click su una linea e sto dicendo che in modalità debug con questo piccolo breakpoint quel pallino azzurro che c'è sulla linea 19 sto dicendo che quando il programma viene eseguito in modalità debug e l'esecuzione del programma arriva a quella linea l'esecuzione si ferma e permette al debugger che è integrato dentro Eclipse di interagire col programma quindi in questo caso lo faccio qui prima della linea 19 quindi vorrà dire che il mio programma quando farò run lo faccio eseguire in modalità debug arriverà fino alla riga 18 e poi si fermerà allora a questo punto io potrò andare ad analizzare il contenuto delle strutture dati allora io ho cliccato sullo scarafaggio sul debugger e Eclipse mi dice guarda che sei entrato in modalità debugger se vuoi ti riorganizzo le finestre in modo da vedere ciò che ti serve ovviamente sì spendo un attimo di tempo per familiarizzarci con questo ambiente perché è essenziale il debugger mi fa vedere sulla sinistra quelle che sono i programmi in esecuzione questo qua abbiamo un semplice programma single thread quando avremo java effects ci saranno più thread che vanno avanti perché devono gestire l'interfaccia grafica e ci dice dove fermo dice fermo alla riga 19 di testlibretto.main e infatti siamo qua questa barra verde questa riga qua è evidenziata in verde perché è la riga che sta per essere eseguita io posso eseguire questa riga con questi controlli con queste freccioline gialle step into e step over step over fa sì che venga eseguita questa riga e quindi il cursore si sposti avanti step into entra dentro la chiamata della funzione quindi se io facessi step into adesso entrerei dentro il costruttore di voto quando il cursore è lì io posso decidere programma vai avanti ed esegui tutta la riga oppure programma entra dentro le funzioni o i metodi che vengono chiamati nell'esecuzione di questa riga ok? quindi per andare avanti riga per riga su questo codice basterebbe andare avanti con il tasto F6 oppure con questa frecciolina che scavalca se no F5 entra dentro ma adesso non voglio entrare da nessuna parte voglio semplicemente vedere se questi voti sono stati inseriti allora sulla destra vedo tutte le variabili che sono accessibili da questo contesto attuale in questo caso siamo nel metodo main e vediamo args che sono il parametro del main e libbre che è la variabile che abbiamo dichiarato qua dentro e da questa finestra variabili posso espandere qui sto facendo qualche cosa che in java non potrei fare dal main vado a vedere il contenuto la variabile voti privata di un oggetto che ho definito ma qui siamo in modalità debug abbiamo i superpoteri, possiamo vedere tutto quindi abbiamo un oggetto voti e sotto mi dice mi cerca di visualizzare che cos'è questo oggetto voti che è una lista, array list e questa lista contiene 9 elementi da 0 a 9 questa è un array list e quindi il debugger ce lo fa vedere come un vettore di posizioni successive se avessimo costruito una linked list sarebbe stata un pochino più brutta da vedere parecchio e il primo voto se ci clicco sopra lui mi dice che è un oggetto di tipo voto però ciò che mi stampa qua sotto è qualcosa di abbastanza poco utile perché mi dice questo è il tipo di oggetto chiocciola indirizzo di memoria c'è un oggetto di tipo voto in questo indirizzo di memoria contiene i dati giusti o no? e non lo so, per saperlo devo espandere e andare a vedere che effettivamente il corso è analisi 1 la data è 15 di gennaio 2017 e il voto era 30 e quindi qua posso controllare tutto ciò che voglio perché mi ha stampato questo? perché la classe voto non possiede un metodo to string altrimenti il debugger che non è scemo anziché stamparmi l'indirizzo di memoria mi stamperebbe già la conversione in string dell'oggetto voto stesso qui questo è già un primo suggerimento per dire anche gli oggetti che non abbiamo mai bisogno di visualizzare il contenuto non dobbiamo mai stamparlo video quindi non ci serve tecnicamente un metodo to string se lo mettiamo ci aiuterà sicuramente nella fase di debug quindi qui abbiamo verificato che effettivamente vengono aggiunti ho 9, non 10 elementi perché il decimo non l'ho ancora aggiunto sono ancora qua sulla... semplicemente Eclipse non mi permette di mettere un breakpoint sulla parentesi graffa chiusa perché non c'è una riga di codice in esecuzione lì e quindi non si può fermare prima di... e allora devo fermarmi la riga prima quindi qua ho una prima verifica che i dati che ho inserito siano sensati ok? se noi aggiungessimo questo famoso metodo to string su voto lo potremmo vedere decisamente meglio allora stoppiamo il debugger possiamo ritornare in modalità java vedete che qua in alto a destra ci sono le varie prospettive quindi quella di debug oppure quella di programmazione java che semplicemente toglie dai piedi le finestre che contengono le variabili breakpoint eccetera è utile sicuramente aggiungere una variabile un metodo to string che contenga per l'oggetto vuoto i tre campi di cui è composto adesso qua ci sono vari modi con cui poterlo costruire io quello che preferisco è usare lo string.format perché mi sembra più facile da faccioccare poi se volessi personalizzarlo ma se no potete anche usare la concatenazione di string cambia solamente il modo in cui lui compone il messaggio che viene stampato per default eclipse definisce un metodo to string che contiene il nome della classe parentesi quadre il nome dei vari attributi con il loro valore tra l'altro vabbè questo è un dettaglio data è un oggetto però qua viene stampato come fosse stringa quindi implicitamente viene chiamato il metodo to string dell'oggetto data quindi con questa a cascata vengono chiamati i to string dei vari oggetti allora se io salvo questo e riprovassi il debug dello stesso progetto vabbè libro è sempre un oggetto tipo libretto non mi stampa nulla perché la classe libretto non ha il metodo to string però se vado sul singolo voto questa volta anziché farmi vedere l'indizio di memoria me lo stampa già in formato leggibile non solo voti che è un array list l'array list sa come stampare i propri contenuti quindi di fatto qui vediamo che sono su voti come variabile vedo l'elenco di tutti i voti aperta quadra vuol dire inizio della lista questa cosa qua è il primo voto virgola questa virgola l'ha messa chi? l'oggetto array list poi ha chiamato e anche questo spazio poi ha chiamato il to string del mio oggetto voto che ha stampato questo messaggio che abbiamo appena costruito quindi collaborano questi metodi to string per crearmi un messaggio che in un'istruzione sola mi stampa l'intera struttura dati senza dover fare cicli eccetera usiamo ciò che abbiamo a disposizione dato questo anche da linea di comando lo potremmo fare da linea di comando da java la codice java lo potremmo fare basterebbe fare voti punto to string voti è un array list e mi restituisce questa stringa qua che compone anche le rappresentazioni testuali dei singoli voti ok questo ci da senza dover necessariamente stampare qualche cosa questo metodo è talmente stupido che non facciamo dei test particolari però usando il debugger siamo riusciti a capire che probabilmente funziona ok tolgo questo breakpoint da qui perché non mi servirà più forse poi vado avanti salviamo questo vado avanti direi che il punto 1 l'abbiamo implementato non mi diceva di stampare nulla semplicemente di essere in grado di inserire 10 oggetti e quindi posso proseguire il punto 2 ricordiamo che stiamo sviluppando in un sistema di controllo versioni quindi se per me il punto 1 è finito e funziona commit lo salviamo giusto? e infatti se torno qua nella parte di staging mi fa vedere che cosa ho modificato rispetto prima ho modificato libretto, ho modificato voto per aggiungere il to string e ho aggiunto la classe test aggiungiamo e con il messaggio di commit diciamo che abbiamo implementato il punto 1 vado vado così se da adesso in avanti facessi casini a questo punto ho messo un punto fermo possiamo andare avanti sul punto 2 stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25 dicevo, qui siamo in un sistema di controllo versioni stiamo lavorando sempre sul branch master, sul branch principale quindi stiamo andando avanti poi tra un attimo magari quando faremo qualcosa un po' più complicato proveremo a farlo su un branch separato per tenerlo separato dal master e poi vedremo come ricongiungerlo ma per ora siamo ancora su cose facili allora, stampare tutti i corsi il cui voto è pari a 25 vabbè, vorrà dire che la classe libretto dovrà avere un metodo che riceve come parametro il punteggio di un voto e allora anche qua io ho due cose che mi vengono in mente potrebbero essere un metodo di questo genere public void stampa voti int voto oppure posso avere un metodo mi vengono tre idee, non due public void anzi, string stampa voti 2 int voto oppure potrebbe essere ancora un'altra cerca voti int voto allora in tutti i tre casi chiedo alla classe libretto di ricercare i voti che hanno un certo punteggio nel primo caso la classe libretto li stampa direttamente system.out.stampa.println nel secondo caso la classe libretto costruisce una stringa che conterrà esattamente gli esami da stampare ma non la stampa ancora il chiamante riceve questa stringa e ci penserà lui a stamparla nel terzo caso manco si pone il problema alla classe libretto di come visualizzare questi voti ma semplicemente seleziona una lista che contiene tutti e soli i voti che corrispondono al criterio di ricerca alla fine in tutti e tre i casi ho qualche cosa che mi dà l'elenco dei voti nel primo caso ce l'ho già a video nel secondo caso ce l'ho in una stringa che basta stampare nel terzo caso ce l'ho in una lista che basta stampare anche lì abbiamo visto appena adesso che facendo la lista punto to string mi dà già tutta la stampa non proprio incolonnata non proprio bellissima da vedere insomma più che accettabile quindi il risultato è lo stesso pratico ma quale delle tre forme per noi è preferibile? quale ci piace di più? un 1, un 2, un 3 3 lui vota 3 siete con lui? siamo tutti con lui ma perché abbiamo anche letto prima la noticina che dice guarda che questa cosa qua poi ci vogliamo mettere un'interfaccia grafica davanti quindi se questa cosa qua mi stampa video sulla console della roba poi quando c'è un'interfaccia grafica non me ne faccio niente questa roba qua e neanche se mi prepara la stringa che poi l'interfaccia grafica potrà mettere in un campo di testo e questa stringa cosa contiene? contiene i nomi i nomi e le data la data la voglio vedere o no? ma magari in alcuni casi la voglio vedere in altri casi non la voglio vedere la data allora separiamo l'operazione di ricerca dall'operazione di formatazione del risultato quindi questa è una classe che deve lavorare con i dati gestire i dati a lei non interessa la formatazione e quindi questa classe non farà altro che semplicemente cioè questo metodo, perdon non farà altro che scandire la lista controllare i vari voti se hanno un punteggio pari a 25 e se sì restituirli in una lista nuova che sta creando quindi una lista voto chiamiamo result uguale new array list di voto e iteriamo for voto v due punti dis.voti if v.getvoto uguale voto result .add dv v e torno result no? quindi dato un voto adesso qua è un casino perché abbiamo chiamato gli oggetti male no? la frase che stavo per dire è dato un voto cerca se ci sono dei voti che contengono quel voto cioè voto è la parola che abbiamo dato sia al punteggio che all'oggetto che contiene il punteggio la data e l'esame quindi dato un voto numerico mi istituisce l'elenco degli oggetti voto che che hanno quel voto come punteggio non voglio andare avanti per altre ore continuando a fare queste perifrasi per riuscire a capire di cosa stiamo parlando no? abbiamo fatto un errorino nel chiamare voto sia l'oggetto che un suo campo e quindi ci incasiniamo no? nello spiegare che cosa facciamo e anche nel pensarlo ci complica ci ingarbuglia il cervello allora io una cosa che farei praticamente subito di andare a cambiare nome con l'attributo voto perché se no non ci capiamo più nulla ma al di là del del nome dare il nome giusto alle variabili agli oggetti è uno dei due problemi forse più grossi più difficili nell'informatica al di là del nome di questo oggetto il lavoro che stiamo facendo è molto molto semplice ok? stiamo creando una nuova lista che contiene un sotto insieme dei voti precedenti e questa lista la possiamo restituire al chiamante qua sotto allora vediamo di fare poi sistemiamo il problema del nome ma vediamo solo di prima di tutto controllare che funzioni quindi io potrei dire chiamare la funzione sul libretto la funzione cerca voti passandogli 25 questa mi dovrebbe restituire una lista di voto chiamo 25 la lista l'ha aggiunto già la punto util ok? e a questo punto posso anche stampare ad esempio intanto siamo su un main di prova non siamo dentro la classe libretto quindi qui possiamo dare per scontato che ci sia una console su cui stampare quindi se eseguiamo questo nella console ci stamperà una serie di oggetti vuoto fisica 1 25 ricerca operativa 25 logistica 25 e basta sui dieci esami ce ne sono tre che hanno per il quale avevamo indicato un voto di 25 un punteggio di 25 quindi adesso abbiamo adesso il programma è terminato quindi non abbiamo più niente però immaginiamo il programma un attimo prima che terminasse quando ho stampato questa roba avevamo un oggetto voti che era un array list che il suo interno conteneva scusate rifaccio avevamo un oggetto libretto che sull'interno conteneva un array list che conteneva dieci oggetti voti dieci esamini che avevamo inserito poi abbiamo costruito quest'altra lista 25 che contiene tre oggetti voti voto quanti oggetti voto abbiamo in tutto il nostro programma? nel momento in cui stiamo stampando questa lista quanti oggetti voto abbiamo nel nostro programma? dieci sono dentro il libretto tre sono nella lista che si chiama 25 in tutto ne abbiamo dieci dieci non tredici attenzione perché la chiave sta qui io ho aggiunto a una lista un oggetto che già c'era quindi l'oggetto che rappresenta l'esame di analisi 1 25 adesso è presente sia nella lista voti dove ci sono tutti sia anche nella lista results che poi diventerà 25 è lo stesso oggetto ok? che viene incorporato linkato riferito due volte non sto copiando un oggetto non sto facendo una copia dell'oggetto vecchio ne creo uno nuovo da mettere in un'altra lista questo se lo dobbiamo avere sempre ben chiaro ogni volta mi chiedo sto creando un oggetto diverso o sto riusando un oggetto che ho? perché se poi qualcuno va a modificare la data va a modificare il voto va a modificare qualche attributo del mio oggetto e se l'oggetto era uno e lo stavo puntando da più strutture dati cambia dappertutto me lo vedo cambiare dappertutto perché era uno solo semplicemente lo stanno ci sto arrivando da più lati da più liste diverse se invece fossero oggetti separati ognuno ha una sua storia ha dei suoi attributi e dei suoi valori diversi ok? quindi in questo caso stiamo riusando gli stessi oggetti qui non stiamo questa che sembrerebbe un'operazione pesante se voi la faceste in C sarebbe un'operazione pesante perché devo prendere dei dati che ho e ricopiarli in un'altra array qua è un'operazione leggera in realtà perché solamente copiando il riferimento il diritto di memoria la reference Java a un oggetto che già esiste ma quell'oggetto potrebbe avere 200 attributi potrebbe avere un costruttore pesantissimo che fa molte operazioni ma io non sto costruendo un nuovo oggetto non lo sto creando qui non c'è new non c'è traccia di new non sto creando nuovi oggetti cioè l'unico nuovo oggetto che ho creato è l'arrlist che però conterrà riuserà degli oggetti che già ci sono ok? avete un modello mentale di questo? io uso la lavagna per un secondo scusate per la registrazione ma io ho la mia lista dei voti che è un array che al momento contiene 10 elementi non disegno tutti i 10 questo è l'arrlist voti libretto punto voti questo punta a 10 oggetti voto io li disegno sparsi questi oggetti perché ogni volta che faccio new Java mi alloca un indirizzo di memoria nuovo in cui contiene l'oggetto che ha i suoi campi il voto l'esame la data eccetera eccetera in realtà il nome del corso a sua volta è un oggetto perché è una string la data a sua volta è un oggetto perché è un oggetto date quindi in realtà a rigore dovrei dire che questo oggetto a sua volta punto ad un altro oggetto string a questo a sua volta ma non voglio andare oltre mi fermo qua quindi questa lista contiene i riferimenti qui faccio delle frecce ai vari oggetti li ho messi disordinati perché non so dove saranno in memoria non so se uno è prima l'altro dopo non mi interessa noi sappiamo che questa parte dello spazio di memoria che contiene gli oggetti in Java viene chiamato IP che vuol dire un bel mucchio disordinato lì ci sono tutti gli oggetti per arrivarci devo avere un riferimento che mi dice dove sono questi riferimenti li ho messi ordinati dentro una redlist se faccio un'altra redlist come ho fatto per quella che si chiamava resalt che poi è diventata 25 sto semplicemente dicendo il secondo elemento ha l'attributo voto uguale a 25? sì se sì allora prendo questo riferimento e lo copio qua copiare questo riferimento qua vuol dire che anche questo punterà dove puntava l'altro quest'altro non lo sa non si è accorto di niente non si è spostato non si è duplicato è sempre lui adesso però è raggiungibile da due padri diversi ok? e così via per gli altri ok insisto su questo perché tra un po' vedremo esattamente il caso opposto dicevo prima di andare avanti voglio un attimo sciogliere questo nodo linguistico per cui si chiama allo stesso modo una classe e un attributo di quella classe e quindi potrei magari cambiare questa cosa qui questo attributo voto anziché chiamarlo voto come la sua classe lo potrei chiamare punti forse è più chiaro così i punti di un voto per voto oppure potrei chiamare cambiare la classe voto o chiamarla esame però il testo diceva di usare voto quindi preferisco tenere buona la classe e cambiare l'attributo allora le operazioni di rinominazione cambio nome non so quale sia la parola in italiano di cambio nome di un oggetto di una variabile sono sempre molto pesanti rischiose perché rischi di far casino perché lo cambi da una parte e non lo cambi dall'altra specie se abbiamo chiamato due cose diverse con lo stesso nome furbi noi per fortuna Eclipse ma mi sa che lo sapete già ha una funzione di refactor che tra le varie funzionalità quindi rifattorizzare il codice significa modificare il codice senza cambiare il funzionamento quindi spostare le cose ma invarianti rispetto alla funzionalità cioè ciò che faccio alla fine lascia un programma modificato ma che fa esattamente la stessa cosa una delle rifattorizzazioni più semplici è quella di rinominare un oggetto quindi rename lo puoi fare sulle classi lo puoi fare sui attributi eccetera eccetera lui ti dice scrivi qua il nome nuovo e io man mano che lo scrivo ad esempio scrivo punti vedete che lo sta cambiando contemporaneamente in più punti diversi del codice ma a me non basta perché io vorrei anche se clicco su opzioni dire che voglio rinominare anche il get resector non solamente la variabile cioè non più get voto ma get punti potrei farlo o non farlo quindi nelle opzioni posso decidere se cambiare solamente il nome interno della variabile oppure anche cambiare il nome esterno di questa proprietà dico anche con l'esterno e l'operazione di refactoring va a vedere anche i punti e modificare e correggere i punti in cui viene chiamato questo metodo quindi alla fine è un'operazione che la fa lui è abbastanza indolore rispetto a quanto sarebbe invece farlo a mano che devo andare a modificare il get voto devo farlo diventare get punti set punti ecco quello che non ha fatto è questo ovviamente perché è dentro una stringa quindi questo devo farlo a mano nel formattatore però la variabile c'è nella classe libretto che lo richiama non è più get voto ma get punti ha fatto tutto a posto ok questo serve solo per chiarezza futura e quindi finalmente riesco anche a scrivere il commento di questo metodo che prima non avrei saputo come scrivere senza impappinarmi questa funzione seleziona il sotto insieme di voti qui facciamo anche un refattoring di questo punti sotto insieme di voti che hanno il punteggio specificato parametro punti è punteggio da ricercare ritorna una lista di voti con aventi tutti quel punteggio o questa lista può anche essere vuota perché se noi cerchiamo un punteggio che non esiste mi dirà che non esiste e qui abbiamo completato il punto 2 direi dell'esercizio quindi anche qua magari facciamo un commit del lavoro fatto finora e passiamo al punto 3 il punto 3 ci chiede di ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso ok che è simile no? al 2 il 2 mi chiedeva di ricercare degli esami sulla base del voto qui mi richiede di ricercare degli esami sulla base del nome del corso una piccola differenza c'è però che nel primo caso gli esami di cui avevo preso 25 potevano essere molti nel secondo caso l'esame che si chiama fisica 2 è uno solo basta e avanza e quindi il risultato è univoco ce n'è uno solo allora qui sempre nella classe libretto aggiungeremo un metodo ragioniamo un po' su qual è il testo ci dice cosa deve fare il programma nel suo complesso poi siamo noi che decidiamo qual è il modo migliore di implementare i metodi quindi se che ne so la stampa la deve fare il chiamante o il chiamato o cose di questo genere sta a noi la progettazione non dobbiamo semplicemente pensare che debba fare tutto questa classe questa classe fa ciò che deve fare poi chi la chiama farà la sua parte e così via chi la chiama per questo momento sarà il programma di prova e tra un po' sarà il controller dell'interfaccia grafica che richiama questi metodi e poi usa i risultati quindi noi cerchiamo di progettarlo questa classe in modo che sia coerente sensata e non troppo vincolata a questo esercizio specifico soddisfa ciò che deve fare questo esercizio ma deve essere anche più aperta in generale per essere utilizzata in altri contesti allora qui abbiamo un'altra classe che ci permette di ricercare i voti questa volta passando dall'esame qui sarà un altro metodo pubblico allora il testo mi dice dimmi qual è il voto che hai preso in quell'esame allora ti restituisco un intero che è il voto o ti restituisco un oggetto vuoto e poi l'intero te lo vai a prendere tu ormai avete capito come penso no? questa è la seconda perché sai se domani ti servisse la data quel metodo lì che ti riusci il voto non te ne fai niente ti maledirai no? per non averci pensato prima allora ti costa uguale e restituisci qualcosa in più va sempre bene cerca esame a questo punto ti passo come stringa il nome dell'esame e sarà una cosa molto simile però questa volta restituisco solamente un oggetto un oggetto solo se lo trovo quindi for questa volta voto dis.voti itero di nuovo questa se per caso v.get corso è uguale a nome esame come si scrive? come si scrive? return v altrimenti return null aspetta che ho una graffa messa male ok scandisco la lista non appena trovo un esame il cui nome sia uguale a quello che sto cercando quello è l'oggetto lo ritorno oh poveretto di nuovo l'oggetto non ne capita nulla ma ritorno un riferimento a quell'oggetto che il chiamante se ne potrà fare ciò che vuole se invece dopo aver iterato su tutti gli elementi quindi quando il forse è esaurito li ho guardati tutti e non ho trovato l'elemento allora potrò dire non c'era ad esempio ritornando null e quindi il chiamante sarà ovviamente obbligato a controllare se il valore che gli ritorno è nullo oppure no ok non bisogna usare equals eh sì perché bisogna usare equals e non uguale? perché così controllo se i due oggetti coincidono invece io voglio vedere se i due oggetti hanno il suo contenuto non l'ha capita con uguale cosa sto controllando? controllo che gli oggetti coincidono e lo stesso id l'id degli oggetti sarebbe il riferimento cioè la posizione di memoria ok? allora quando uso il simbolo di uguale 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 per i confronti ciò che sto facendo è sto confrontando la posizione di memoria di due oggetti quindi in questo caso avrò il corso di analisi 1 che è qua che ha come nome analisi 1 è una stringa che avevamo creato quando è stato creato l'oggetto però poi quando chiamo il metodo nome esame gli passerò il nome esame analisi 1 che è un oggetto stringa che contiene esattamente nel stesso contenuto ma che probabilmente è da un'altra parte sullo ip allora questo testo uguale uguale fallisce praticamente sempre a meno che voi non vi siate salvati questa cosa qui qui non c'è nessun new di string però ogni volta che apriamo le virgolette in realtà stiamo facendo un new di una string la stiamo mettendo a qualche parte nel leap usiamo un riferimento che poi o va dimenticato se faccio una print line della stringa va via lo dimentico il riferimento oppure viene salvato in questo caso dentro quell'oggetto però se io scrivo di nuovo virgolette analisi 1 un po' di righe dopo lui non lo sa e mi crea un altro oggetto che in realtà è uguale al precedente e quindi quando mi chiedo sono uguali uguale uguale dice stanno allo stesso indirizzo di memoria no deve usare il metodo equals che confronta i contenuti dei vari oggetti adesso purtroppo è più complicato di così perché il compilatore di java mannaggia lui fa delle ottimizzazioni quindi a volte si accorge se scrivo due volte la stessa stringa anziché creare due oggetti uguali ne crea uno solo e fa già lui questo lavoro e per cui a volte poi il programma ti funziona a volte non ti funziona e ti viene da dare la colpa a cose strane ma in realtà la colpa è tua che non hai fatto le cose bene quindi l'uguale uguale dimentichiamolo sempre quando è che possiamo usare uguale per confrontare dei valori? solamente se sono delle variabili semplici e non degli oggetti e quindi int basta se sono gli int o i char che si possono confrontare per uguaglianza perché sono oggetti semplici si dice no ma ci sono anche i double sì ma i due double non li confronti mai con l'uguaglianza perché essendo con il numero di cifre con la precisione diciamo i numeri float in point non sono precisi non potrei mai confrontarli non saranno mai uguali devi sempre confrontarli con una certa tolleranza quindi l'uguale uguale va bene se dobbiamo confrontare con null che è una costante o con un intero o due interi tra di loro altrimenti equals ok compare to compare to è un'altra cosa compare to è un metodo che prende due oggetti e dice quale dei due viene prima dell'altro e quindi può restituire tre valori diversi negativo nullo o positivo a seconda che il primo numero sia minore uguale o maggiore del secondo allora non è detto che gli oggetti siano sempre comparabili per poter confrontare tu puoi avere i tipi di oggetti di cui ha senso dire se sono uguali o no e poi ragioniamo sulla nozione di equaglianza domani ragioniamo ancora meglio quando facciamo le hash ma ci sono oggetti su cui magari non ha senso mettere un ordine esempio banale coordinate x y allora io ti posso in un piano cartesiano io ti posso dire che la coordinata 3 3 è uguale alla coordinata 3 3 sì ma se ti dico 3 3 e 2 4 che segno ci metto maggiore o minore o uguale tu mi dici diverso è bravo ho capito ma con per tu non è quel contratto con per tu restituire minore o uguale o diverso nessuno di questi tre vale perché non esiste una nozione di ordine assoluto a meno di non volercela imporre noi a forza non esiste alcuna nozione di ordine assoluto tra oggetti in questo caso coordinate cartesiane ma invece ha senso chiedersi se sono uguali o diversi anzi è diverso allora questo è un tipo di oggetto in cui ha senso definire un operatore equals e non ha senso definire un operatore con per tu che non vuol dire parentesi nella parentesi che non saremo mai in grado di mettere in ordine queste cose potremmo decidere magari di ordinarle per ascissa potremmo essere ascissa per ordinata per poter stampare in qualche modo no? però un conto è l'ordine in cui le voglio vedere un conto è l'ordine intrinseco che possiede quell'oggetto in questo caso non ce l'ha allora usare compare to per pigrizia di non voler usare equals è un errore perché non non di tutti gli oggetti ha senso definire un ordinamento naturale ok? se leggete l'augumentazione di java quando vi parla dell'interfaccia comparable che è quella che vi fa aggiungere il metodo compare to parla proprio di ordinamento naturale degli oggetti è una definizione un po' vaga naturale ma noi capiamo cosa vuol dire cioè oggetti che per la loro struttura si dispongono si ordinano che ne so cronologicamente dipende che cos'è in un modo naturale non ci potrebbe non potrebbe venire in mente a persone diverse di ordinarli in modi diversi diciamo così mentre invece se oggetti anche non naturalmente ordinabili in un certo modo li vogliamo ordinare noi usiamo un compare to resterno nel metodo sort c'è la classica compare to ma poi ci giocheremo abbondantemente e allora in quel caso lo ordiniamo secondo quel criterio che ci piace ma di criteri ce ne possono essere tantissimi tutte le volte che abbiamo i dati di una tabella gli ordiniamo ogni colonna può fungere da criterio di ordinamento ma non è detto che ci sia una colonna che contiene il criterio vero giusto ok ok in questo caso che cosa stiamo chiamando stiamo chiamando equals di di quale oggetto dell'oggetto string che è già definito quindi non dobbiamo preoccuparci ok perché getCourse restituisce una string poi tra un po' dovremo invece e crearci il nostro allora ci porremo il problema allora abbiamo detto cerca esame quindi ricerca un voto relativo relativo al corso di cui è specificato il nome parametro nome esame vabbè il nome del corso ricercare return è il voto corrispondente oppure null se non esistente quindi qui possiamo provarlo nel nostro programma di test in cui possiamo dire che voto analisi 1 uguale libretto punto cerca esame virgolette analisi 1 e il voto di analisi 3 invece che non esiste cerca esame di analisi 3 quindi alla fine mi dovrebbe stampare la prima volta un esame e la seconda volta null null a 1 e poi proviamo con a 3 in effetti lui mi ha stampato la prima volta analisi 1 punti 30 data tal dei tali la seconda volta mi ha stampato null che è il risultato di questa seconda ricerca per controprova se al posto di qua smettete uguale uguale ma non mettetelo così non prendete le brutte abitudini come fumare cioè se non cominci non ne senti la mancanza probabilmente nel primo caso troverete anche null dico probabilmente perché dipende da quanto il compilatore Java è riuscito a capire che questa stringa e quell'altra erano uguali e quindi riusare una reference che già aveva questo vale per tutti gli oggetti e anche per esempio gli oggetti integri mi sembra quelli dall'1 al 100 lui li ha già creati pronti e non li crea ogni volta quindi non bisogna mai fidarsi di queste cose se facciamo la cosa giusta di usare equals va bene ok il punto 2 l'abbiamo fatto vediamo ho il punto 3 addirittura passiamo al 4 quindi anche qua magari facciamo un commit punto 3 e passiamo al punto 4 ci dice di creare un oggetto vuoto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto cioè lo stesso esame con lo stesso voto ci chiede di ragionare su l'uguaglianza tra oggetti in qualche modo mentre se due voti sono uguali lo so perché vado a vedere il punteggio mentre se due corsi sono uguali lo so perché confronto le stringhe cosa vuol dire che due voto sono uguali? quali sono gli attributi di un oggetto che se coincidono rendono i due oggetti indistinguibili, intercambiabili agli effetti pratici un po' come non è detto che siano tutti gli attributi di un oggetto che ci servono per identificare l'oggetto stesso ad esempio se io avessi degli oggetti che rappresentano gli studenti quindi mi basta confrontare la matricola per sapere se si tratta dello stesso studente di due oggetti che rappresentano gli studenti o due oggetti che rappresentano gli studenti diversi nome e cognome non mi interessa come si dice siete dei numeri non servono non servono e sono certo che se la matricola è uguale anche il nome e cognome saranno uguali e in più il nome e cognome potrebbero essere uguali anche se le matricole fossero diverse perché ci sono casi di omonimia poi ragionamenti che avete fatto a tonnellate quando normalizzavate le basi di dati ci sono dei campi chiave e tutti gli altri dipendono funzionalmente da questi primi adesso qui nella programmazione non siamo obbligati a ragionare per dipendenza funzionale però abbiamo degli oggetti di cui alcuni attributi saranno attributi possiamo chiamare chiave anche se non è un po' improprio e altri che sono semplicemente dei valori che vanno a spasso insieme che non comportano l'identificazione degli oggetti in questo caso lui mi dà una definizione che poi può piacermi o no mi dice verifica se esiste già la valutazione cioè un stesso esame con lo stesso voto e nel punto dopo cominciamo a guardarlo parla invece di conflitto quando avessimo lo stesso esame e il voto diverso cioè questo è un problema se ho lo stesso esame con lo stesso voto vuol dire che ho rappresentato due volte la stessa informazione se ho lo stesso esame con un voto diverso vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mio sistema è incoerente ok ok partiamo dal punto 4 possiamo andare a cercare dunque che cos'è che deve essere univoco in un libretto cosa che non si può ripetere mai la data no perché magari siete capaci di dare tre esami in un giorno il nome del corso sì non si può dare due volte sull'esame la combinazione nome corso e voto cioè è più giusto mi sto chiedendo definire l'identità di due oggetti vuoto andando a confrontare solamente il nome del corso oppure combinando il nome del corso e il voto come questo mi pare che suggerisca il punto 4 è possibile avere due oggetti che considero diversi ma che hanno lo stesso nome corso e voti diversi? no e quindi è sbagliato pensare che l'identità degli oggetti sia data dalla combinazione nome corso e voto e so che è 4 in trabocchetto ma l'ho scritto nella nota che sono trabocchetti queste domande l'oggetto vuoto ha un campo univoco che non si può ripetere che è il nome del corso sulla base di quello dobbiamo definire l'identità se esistono oggetti distinti che hanno lo stesso nome corso ma i restanti attributi sono diversi c'è un problema, c'è un errore non possono coesistere nello stesso libretto ok? quindi il 4 lo implementiamo ma non definiamo l'uguaglianza di oggetti vuoto così come l'ha definito questa parentesi stesso esame con stesso voto perché sarebbe sì, potremmo implementare un metodo equals che fa questo no? però non sarebbe giusto perché poi in altri contesti ci facciamo del male perché subito nel punto dopo ci accorgeremmo che due esami che consideriamo in conflitto lì qua si dice no, no, sono cose diverse, non preoccuparti ok? quindi in questo caso il campo forte il campo identificante di un oggetto vuoto è solamente il nome dell'esame dovremmo usare il codice, sarebbe più preciso ma noi questo abbiamo quindi usiamo l'esame quindi due oggetti vuoto per me saranno uguali se rappresentano il voto dello stesso esame e quindi per implementare il punto 4 il punto 4 cosa farò? avrò un nuovo oggetto vuoto cercherò nella mia base dati esiste già un altro voto uguale cioè dello stesso corso per me uguale è dello stesso corso e poi andrò a confrontare i punteggi ok? allora questo è un passaggio che non è immediato nel senso che dobbiamo modificare un po' di cose allora ne approfitto per farvi vedere come si fa a lavorare in un branch separato magari questo qua è un po' complicato rischiamo di fare dei pasticci perché andiamo a modificare gli oggetti quindi poi ogni volta che modifichiamo qualcosa dobbiamo andare a ritestare che quella parte precedente funziona ancora eccetera eccetera quindi quando devo fare un passo che è più lungo della gamba o di un singolo passettino conviene farlo a parte poi dopo li mettiamo insieme così non rischio di sporcare perché? perché magari ci mettiamo più tempo non ce la faccio finirlo entro 10 minuti e allora ho la scelta tra non fare commit e quindi voi non lo potete vedere e io se stannote mi si rompe il computer perdo il lavoro oppure fare commit e sporcare il master perché ci ho messo su un semilavorato che poi non è detto che poi funzioni magari dovrei buttarlo via e ricominciare da capo perché l'ho fatto male allora visto che è un lavoro che so già che richiederà più di un commit se non ho un'altra perzione di tempo lo faccio su un branch separato poi alla fine li riuniamo nel master allora per fare un branch separato è banalissimo perché nel menu team ho un menu switch che mi permette di switchare tra tutti i branch che sono stati definiti io ne faccio uno nuovo che chiamo con tanta fantasia .4 e decido che questo branch venga sincronizzato anche col mio remoto upstream cioè il remoto con cui mi sto sincronizzando altrimenti sarebbe solamente un branch locale sul mio computer se lo misconfiguro vuol dire che quando faccio push verrà creato su github anche lì un branch che si chiama .4 che traccia l'evoluzione del mio branch locale allora voi dite non è cambiato niente non è cambiato quasi niente tranne il fatto che qua dove c'è il nome del progetto a fianco del nome c'è scritto .4 anziché master e anche qua c'è scritto .4 anziché master vuol dire che adesso sono in questo branch per ora il branch master e il branch .4 sono allineati perché non ho ancora fatto nessuna modifica in ogni momento posso passare da un branch all'altro adesso coincidono perché li ho appena creati vedete che sono lì sulla stessa riga c'è scritto master e .4 origin .master perché è il master su github non c'è un origin .4 perché non ho ancora fatto push e quindi su github non c'è ancora allora a questo punto sono più tranquillo perché se anche facessi pasticci li sto facendo in un branch separato e andiamo ad aggiungere il metodo equals al mio oggetto vuoto con il ragionamento di prima il metodo equals andrà a controllare solamente il nome del corso allora io qua tra i vari genera non c'è nessun genera equals ma c'è un genera escode e equals messi insieme dell'escode parleremo bene approfonditamente domani per ora pensiamo che sono gemelli siamesi e devono andare ogni volta di pari passo se definisco metodo equals devo definire anche il metodo escode che ovviamente devo lavorare sugli stessi parametri in questo caso solamente il corso potrei neanche scriverlo a mano eh però il cuore del metodo equals è questo dove è andato questo cioè alla fine fa un confronto tra l'attributo corso di questo oggetto e l'attributo corso di un altro oggetto e questo l'avremmo potuto tranquillamente scrivere a mano if this.getcorso .equals the other.getcorso ciò che sta davanti e noi invece a mano non avremmo di sicuro fatto ci saremmo dimenticati qualche cosa è tutta una serie di controlli preliminari per verificare che uno non sia nulle l'altro non sia nulle uno sia un oggetto vuoto eccetera eccetera no? che eclipsi di genera giusti e noi probabilmente ci saremmo dimenticati qualche controllo intermedio noi abbiamo definito equals chiamando equals ma cos'è ricorsiva sta roba? c'è un metodo che richiama si stesso? no è una delega questa perchè l'equals della classe vuoto richiama l'equals della classe string perchè corsa una string ricorsione avremo un momento di farla e ci divertiremo in questo caso no semplicemente un metodo con lo stesso nome in cui delego il confronto al metodo sottostante della classe string ok e questo mi permette di far sì che nella classe libretto posso cominciare a lavorare su verificare se una valutazione esiste già nel libretto quindi io ti posso passare al mio libretto un voto e tu libretto mi dici esiste già? quindi quindi creiamo un metodo public wulean esiste già sì o no? esiste? già vuoto non metto la accentata perchè sennò quando copiamo una computer all'altro fa casino no? allora allora cosa può capitare? può capitare? mi arriva un oggetto vuoto e devo dire guarda che un vuoto uguale a questo esiste già nel mio libretto quindi quando è che mi restituisce vero? quando ho trovato un esame cioè un corso uguale col voto uguale quando è che mi restituisce falso? quando ho trovato un corso uguale col voto diverso oppure ho trovato oppure non ho trovato nessun corso giusto? quindi dato un voto link su lato link voto non è mai sprecato il tempo perso documentare eh determina se esiste già un voto con uguale corso ed uguale punteggio quindi restituisce true true se ha trovato un corso e punteggio uguali invece restituisce false se non ha trovato il corso oppure l'ha trovato con voto diverso con voto diverso che dobbiamo fare è questa. Cerca esame. Non andiamo a riscrivere un ciclo for che abbiamo già scritto una volta, poi domani lo cancelleremo anche quel ciclo for, però dobbiamo trovare se c'è uno con l'esame uguale, con il corso uguale e abbiamo già un metodo per trovarlo, quindi prima di tutto devo dire voto trovato è dis.cercaesame v.getCorso, del voto v il nome del corso qual è? Ok, allora io ho già il metodo cercaesame che mi va a confrontare i nomi del corso e mi restituisce un oggetto se l'ha trovato o no, se non l'ha trovato, se non l'ha trovato allora restituisce false, l'importante è aver pensato prima a tutti i casi, l'abbiamo scritto nel commento e quindi adesso semplicemente dobbiamo tradurre in codice il commento, è facile. Se invece l'ha trovato, devo andare a vedere il punteggio, quindi il voto trovato, .getPunti, questo è un intero, quindi posso usare uguale, anzi devo usare uguale, a v.getPunti. Se sono uguali i punteggi allora ritorno true, altrimenti ritorno falso. e qua per il momento ci fermiamo, dobbiamo ancora testarlo e dobbiamo ragionarci perché poi ci accorgeremo che l'80% del codice che abbiamo scritto qua non serve. Lo possiamo semplificare se pensiamo che sotto non abbiamo un array c, ma un array list java che è un pochino più furbo, quindi certe cose da solo le sa fare già. Ma questo siamo obbligati a aspettare fino a domani per vederlo. Faccio commit e vi saluto. A domani.